Buonasera dall'incatenati Serti, siamo all'interno del Camber per quanto riguarda Progetto Sicilia. Il signor Antonio Megna è il nostro referente di Ragusa che ci spiegherà quali punti sono riferimenti a Ragusa per tutti coloro che vorranno firmare. Prego. A Ragusa abbiamo organizzato tre punti dove si può firmare la legge di iniziativa popolare per ottenere la moneta complementare regionale denominata Gramo. Questa è la prima legge da quando è stato fatto lo statuto della regione siciliana di iniziativa popolare che verrebbe, se riusciamo a raccogliere 10.000 firme, che verrebbe realizzata nella nostra regione. Si può andare presso l'ufficio elettorale del comune al terzo piano e si può firmare direttamente lì autenticando la firma. Si può andare a firmare in Viale dei Platani, presso il panificio Re di Pane oppure si può andare in via Carducci, presso la bottega Il Sigaro. Avitateci per raccogliere queste 10.000 firme. Abbiamo bisogno di riprenderci la nostra sovranità e abbiamo bisogno di nuovo di fare sviluppare la nostra regione, perché adesso non possiamo più stare dietro alle banche. Perché unite si vince, divise si muore. Grazie signor Magna. Arrivederci. Buonasera, ci troviamo qui all'interno di un tabacchino che sta aderendo alla protesta e alla proposta soprattutto del progetto Sicilia. Abbiamo già raccolto, stiamo iniziando a raccogliere il primo per depositarle il giorno 17 alla regione siciliana. La signora... Sono Valeria. Noi abbiamo aderito comunque alla nostra categoria di associazione per fare questo sciopero ogni lunedì mattina, è stato già pubblicizzato a livello nazionale, un sciopero che dura solamente 3 ore dalle 9 alle 12 ogni lunedì mattina. Dicono che si proterrà fin quando non ci daranno quest'aggio in più. Personalmente penso che sia poco, che sia davvero poco, perché si spende solamente 3 ore la vendita di un tabacco che alle 12 termine, alle 12.05 posso vendere il tabacco, mi sembra proprio una sciocchezza. Molti commercianti qui in zona si lamentavano tutti, dicono ma perché non facciamo qualcosa tutti insieme e dovremmo fare qualcosa comunque tutti insieme, perché è un diritto, un dovere comunque di tutti. Perché siamo stanchi di correre sempre a tasse, cose che arrivano da pagare, penso che lo pensiamo tutti ma non facciamo mai nulla, la verità è quella. Ci smettiamo solamente e non facciamo nulla. Sarebbe davvero ora di fare comunque qualcosa. E di dirgli a tutti coloro che si trovano in questa situazione di sassoso sociale di alzare la testa e unirsi ad una protesta all'evoluzione pacifica e culturale. Sentivo in televisione, giusto per concludere, l'ennesimo involucro, chiama Torrenzi. Sì, sei bravo però. Non ne capisco molto di politica, non ne voglio capire immaterialmente perché si trova, sono stanca anche di avere questi, di sentire qualunque cosa. Siamo dall'esterno veramente dei burattini comunque presi, dall'estero, in Italia ha dei burattini, davvero. Sono stanca e siamo stanchi, facciamo qualcosa, tutti. Ok, grazie, uniti si vince, divisi si muore. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo l'unico morale di fermare questa macelleria sociale, visto che nei nostri tre anni più di 5.000 padri di famiglie che sono porti la vita. Se vuoi fermare anche tu, vuoi legarsi presso l'ufficio elettorale stanza 32 terzo piano, presso l'anificio Re di Pane, Viale dei Pani, Capaccio e Figlio, Via Canguzzi. Per informazione, rivolgersi al professore Arturio Meglia, firme, che serviranno per l'attuazione del progetto di sviluppo dall'attuazione del progetto, vuoi legarsi presso l'ufficio elettorale stanza 32 terzo piano, presso l'anificio Re di Pane, Viale dei Platini, Capaccio e Figlio, Via Canguzzi. Per informazione, rivolgersi al professore Antonio Meglia. Via Canguzzi. Per informazione, rivolgersi al professore Antonio Meglia. Più di 5.000 padri di famiglie si sono tolti la vita. Se vuoi firmare anche tu, puoi ricarti presso l'ufficio elettorale stanza 32 terzo piano, siete tutti invitati a Palermo, davanti al Parlamento. che serviranno per l'attuazione del progetto di sviluppo per la nostra inizia dell'ufficio elettorale stanza 32 terzo piano, anche il figaro Via Canguzzi. Per informazione, rivolgersi al professore Antonio Meglia. Se vuoi firmare anche tu, puoi ricarti presso l'ufficio elettorale stanza 32 terzo piano, presso l'anificio Re di Pane, Viale dei Platini, siamo alla cusa per divulgare il progetto Sicilia, progetto di legge e di iniziativa. Se vuoi firmare anche tu, puoi ricarti presso l'ufficio elettorale stanza 32 terzo piano, presso l'anificio Re di Pane, Viale dei Platini, Tabacchio e Figaro, Via Canguzzi. Per informazioni, rivolgersi al professore Antonio Ligna.